ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi sono qua un po a parlarvi di attirare le somme diciamo del viaggio a caponord che la serie ormai è conclusa è uscita anche diciamo un'altra serie ovvero il giro attorno al monte bianco però volevo portarvi un po di informazioni appunto sul viaggio di caponord e anche per poter dare delle informazioni appunto a voi per riuscire a prepararvi meglio a sapere cosa poter fare e tutte queste cose qua oggi partirò con la prima cosa che è quanto ho speso per andare a caponord questo non vorrei farvi fare i miei conti ma comunque voglio darvi un'idea su quello che si potrebbe spendere per un viaggio appunto a caponord abbiamo fatto anche una live a riguardo però voglio portarvi un po di spese a dettaglio e appunto oggi vado ad elencarvele partiamo con la prima spesa quella più importante che è stata la spesa della benzina qua ho speso per i 14 giorni e 8000 chilometri 705 euro virgola 94 centesimi qui vi vorrei dare un consiglio se dovete fare benzina mentre state andando verso caponord io vi consiglio soprattutto diciamo dall'italia alla germania se fate l'autostrada di cercare di fare benzina ragazzi al di fuori appunto dell'autostrada allora calcolate che in autostrada almeno 50 60 centesimi in più a litro li pagate sia in italia che comunque in germania e fuori quindi primo consiglio ragazzi cercate di fare benzina fuori dall'autostrada che costa meno già costa tanto però in autostrada è davvero molto molto caro quindi ragazzi benzina fuori dall'autostrada questo costo della benzina ragazzi io vabbè l'ho fatto in 14 giorni però se voi lo fate in diciamo 3 settimane 20 giorni questo costo resta in medesimo perché i chilometri sono quelli sarà diluito in più in più giorni però diciamo il costo della benzina va diciamo a chilometri quindi se dovete fare 8000 chilometri il prezzo più o meno è questo andiamo inoltre a vado a dire un altro costo che è inciso particolarmente sul budget che è quello dei pernottamenti allora io sono partito con l'idea di fare più campeggio che altro però comunque dato il maltempo che ho trovato ho optato più volte per fermarmi in alberghi o comunque a bnb casi qualcosa del genere stanze diciamo che mandava bungalow cercavo di tutto soprattutto per riuscire a asciugarmi a restare un po al caldo soprattutto perché andando più verso nord e le temperature se poi non c'è tempo clemente diciamo sono abbastanza basse calcolate che capo nord ragazzi io sono arrivato che c'erano 3 gradi nebbia acqua e vento forte andate a vedere i video se non li avete visti magari vi lascio qua la scheda ed è stato un viaggio davvero pesante a livello meteorologico perché ho preso un bel po di acqua quindi in 14 giorni diciamo che 4-5 volte in campeggio ci sono andato campeggio comunque non ho fatto free camping fuori dai campeggi ma sono andato in campeggio normale almeno per avere una doccia o un bagno diciamo e quindi ho optato per tolti questi cinque giorni in tenda il resto quindi nove giorni li ho fatti tra alberghi e bnb stanze bungalow eccetera sono arrivato a spendere un totale di 189 e 73 centesimi quindi abbastanza abbastanza corposo speravo di spendere qualcosa in meno e fare più campeggio però il tempo non è stato dalla mia parte quindi diciamo il costo questo costo su 14 giorni quindi se fate 20 giorni ecco dovete cercare magari o di fare più campeggio anche se piove oppure cercare di aumentare il budget budget finale che vi dirò ecco un consiglio che vi do per i pernottamenti è più che altro riguardo le app da utilizzare visto che comunque io mi trovo bene con quello che sto utilizzando vi dico un po' come cosa uso e come le uso per gli alberghi stanze hotel tutte queste cose qua uso principalmente due applicazioni che sono booking che è famosissima e airbnb airbnb è un po' più particolare perché comunque le sistemazioni o sono delle stanze in una casa abitata oppure è magari una piccola rullottina in un giardino soprattutto se andate all'estero oppure come è capitato a me un container in un capannone comunque fatto a modo di stanza che era davvero molto bella e quindi diciamo che uso queste due applicazioni che vi consiglio soprattutto poi se utilizzate booking vi consiglio anche di scaricarvi le t-shops questo non è una marchetta sponsorizzata ma ve lo dico perché comunque se volete diciamo che questi soldi 580 euro parte magari vi rientri non dico tanto ma un 5 10 euro diciamo che le t-shops fa il caso vostro fa appunto modalità di cashback con alcuni siti tra cui c'è anche booking quindi ragazzi questo qua è un consiglio che vi do non è ripeto sponsorizzato quindi io lo utilizzo e vi lascerò magari il link in descrizione se volete andare a vedere questa applicazione che trovo molto vantaggiosa perché comunque vi da un cashback non dico importante però comunque qualcosina vi rientra andiamo avanti e parliamo ragazzi di un'altra applicazione che uso per i pernottamenti soprattutto per trovare i campeggi ovvero park for night uso ormai principalmente questa applicazione per trovare i campeggi e qui oltre i campeggi trovate anche aree sosta aree magari non in campeggio ma fuori dove potete appunto magari pernottare con la tenda o con il camper o con qualsiasi cosa ragazzi andatela a vedere a dare un'occhiata non vi spiego in questo video come si usa ma se volete che vi spiego l'utilizzo di questa app lasciate nei commenti quindi part for night per i campeggi andando avanti ragazzi nelle spese passiamo alla spesa del cibo cibo che mi è costato ragazzi 276 euro e 67 centesimi questo come stavo dicendo diviso un po' tra supermercati e magari qualche volta sono andato o a fare colazione al bar o magari in pizzeria mangiare una pizza o magari al ristorante mangiare qualcosa di tipico ecco ma soprattutto diciamo io puntavo più sui supermercati fanno magari la scorta giornaliera e mangiare magari non so un panino un'insalata un prendere magari l'acqua da bere tutte quelle cose lì sicuramente se si vuole risparmiare ragazzi i supermercati è lì dove bisogna andare a prendere da mangiare perché comunque si risparmia molto rispetto che andare o in un ristorante o in pizzeria quello che sia quindi se si vuole risparmiare sicuramente i supermercati con 10 euro si fa la spesa per tutto il giorno quindi senza senza problemi anche anzi vi avanzano anche anche all'estero devo dire che più o meno i prezzi se andate nei discount sono pressoché gli stessi di quelli italiani quindi 276 euro tra appunto supermercati e comunque mi sono tolto anche qualche sfizio qualche pizzeria qualche ristorante ogni tanto e niente quindi questo è la spesa del cibo passiamo un'altra un'altra fonte di spesa che è stata abbastanza che ha inciso non poco su budget è stato quello dei punti e traghetti punti e traghetti soprattutto diciamo sono stati tre principali dove ho speso un po' di più che il primo è stato il traghetto tra Puttgarden e Rodby Puttgarden in Germania e Rodby in Danimarca questo traghetto vi permette di appunto arrivare in Danimarca e poi andare a percorrere il ponte Oresund e tra questo traghetto e il ponte Oresund sono andato a spendere quel giorno sui 103 euro e 71 centesimi quindi erano più o meno 70 euro di traghetto e sui 35 euro di ponte io il ponte sinceramente vi consiglio di farlo non per grandi viste panoramiche ma comunque state percorrendo un ponte il ponte più lungo d'Europa e quindi comunque come opera architettonica vale la pena di essere comunque vista e percorsa con la nostra moto poi potete anche magari fare un'altra strada perché io sono salito dalla Svezia ovviamente se volete salire dalla Norvegia e scendere dalla Norvegia diciamo che quel ponte è inutile farlo anche perché al ritorno ho preso il traghetto in Norvegia al sud della Norvegia ovvero ho scelto l'Arvik che diciamo ha una cinquantina di chilometri forse qualcosa di più da Oslo lì ho preso il traghetto che mi ha portato a Irschald sempre in Danimarca, nord della Danimarca qua da Irsch a partono e arrivano varie tratte di traghetti tra cui anche Kristiansand che se fate la costa sud della Norvegia è il posto più comodo questo traghetto mi è costato 151 euro e 99 centesimi quindi non proprio poco vi consiglio ragazzi se dovete prenotare questi traghetti magari di prenotarli non proprio nei giorni troppo sotto ma prenotarli magari una, due, tre settimane prima che dovrebbero costare un po' di meno più in anticipo prenotate meglio è io le ho prenotate quasi alla fine e le ho pagate diciamo prezzo pieno se le prenotate con largo anticipo diciamo che la possibilità di risparmiare è più alta quindi prenotate prima questi traghetti e niente che volete fare appunto in più ci sono stati dentro 11 euro di un altro traghetto che ho fatto in Norvegia o li pagate direttamente sul traghetto con carta di credito anche oppure vi arriva diciamo il conto a casa io l'ho pagato direttamente lì altra fonte di spesa sono altre spese varie che sono andate dalla tenda del primo giorno che mi si è rotta ad esempio ho dovuto cambiare una lampadina alla moto 25 euro e ci sono state varie altre spese che ho fatto di 60 euro tra magari gadget souvenir da portare a casa e queste altre fonti di spesa hanno inciso per 124 euro e 90 centesimi facendo il conto complessivo di queste spese di viaggio ragazzi il totale è stato poco al di sotto del budget che mi ero prefissato di 2000 euro mi ero prefissato questo budget sperando di rimanere molto ma molto più sotto io pensavo di spendere attorno ai 1500 ma ho sforato di un bel po' soprattutto per motivo del brutto tempo e poi ho avuto dentro anche ad esempio la tenda che si è rotta la lampadina della moto e qualche altra cosa che comunque non è andata magari nel verso giusto e lì ho dovuto comunque ho dovuto spenderli quindi da 1500 che speravo di spendere sono andato a spendere la cifra complessiva di 1900 euro e 1963 euro e 94 centesimi non pochissimo ditemi voi un po' cosa ne pensate io penso che non ho fatto una vacanza diciamo di lusso perché ho fatto qualche campeggio comunque dove per nottavo non è che erano hotel a 5 stelle ma ho sempre portato per stanze o comunque camere d'albergo molto molto economiche diciamo più di 50-60 euro notte non ho speso ecco sono sempre stato sulla media dei 40-45 euro a notte negli alberghi invece in campeggio sono stato sulla media dei 15-20 euro e questo mi dà una spesa totale di appunto sugli alberghi di quasi 600 euro però che questo è un po' il budget che ho dovuto spendere per questo viaggio ditemi voi nei commenti cosa ne pensate io vi ho fatto questo video non per farvi fare i conti in tasca ma per farvi fare un'idea appunto del costo che può avere un viaggio a capo nord se lo volete fare in moto questi più o meno sono i costi ovviamente ragazzi dovete calcolare che io l'ho fatto in due settimane se l'ho fatto in tre i costi potrebbero aumentare soprattutto per quanto riguarda i pernottamenti e altro quindi ragazzi non è un viaggio economico sicuramente però come vi stavo dicendo una volta nella vita questo viaggio penso che si debba fare almeno una volta nella vita è un viaggio da fare ragazzi ve lo consiglio soprattutto ragazzi per me è da fare innanzitutto prima di tutto in solitaria o comunque magari in coppia con la moglie non lo so però in solitaria vi dà qualcosa in più vi fa immergere in più nel viaggio e comunque vi avete secondo me più emozioni da soli in gruppo diventa un po' più una cosa di gruppo da solo diventa un po' più introspettiva vi potete diciamo far tante domande tante risposte arrivate a dei punti di crisi io sono arrivato a un paio di punti di crisi dove pensavo ho detto no mollo tutto torno indietro e basta non ce la faccio però comunque ce l'ho fatta sono arrivato e ragazzi vi consiglio questo viaggio detto questo io vi ringrazio di aver visto anche questo video vi ricordo di lasciare un bel mi piace iscrivervi al canale noi ci vediamo alla prossima ciao ciao